E salve ragazzi, oggi siamo qua con un nuovo video per parlare del Playstation Plus di marzo 2020 in cui sono stati annunciati i due giochi che verranno aggiunti nella raccolta dal 3 marzo in avanti in tardo pomeriggio probabilmente Allora, abbiamo Sonic Force Sonic, grazie al film, ha messo il regalo Sonic Force perché magari hanno visto qualche possibilità di spinta del prodotto visto che Sonic Force è un gioco che non ha venduto moltissimo che io ho, ho già finito e devo dire che provatelo ragazzi perché è davvero un gioco che merita davvero stra divertente, bello, nel complesso datevi una chance perché merita veramente tanto ad essere approfondito è il classico gioco divertente sì che vi fa passare quelle 10-15 ore di divertimento ad alta velocità ma che poi dopo cancellerete perché avrete finito ecco, non è un gioco che vi porterete all'infinità però ve lo consiglio perché veramente è un bel prodotto nel suo complesso l'altro titolo è Shadows of the Colossus Remake Remake fatto da Dio, veramente l'ho preso al day one praticamente e l'ho finito in pochi giorni è un gioco che dura non tanto dipende come l'ho affrontata può durare dai 5 ai 10 ore come i 15 insomma, dipende anche quanto esplorate la zona è un gioco bene o male che si d'esplorazione ma che in realtà è composto da solo boss fight e davvero ragazzi, provatelo perché ha una storia semplice ma veramente bella ben curata e non ve ne pentirete davvero un bel prodotto davvero un bel prodotto un remake molto fedele al gioco originale migliorato in tutto e per tutto quindi ragazzi, giocatelo quindi, che dire Plus ha sfornato un mese secondo me, buono nel complesso con giochi ottimi Sonic Force e Shadows of the Colossus quindi, che dire ottimo lavoro per quanto riguarda la scelta dei titoli Sonic grazie al Sonic comunque grazie al film alla probabilità che sta ricevendo in film questi giorni e Shadows of the Colossus perché è un grandissimo prodotto insomma, due prodotti che vale la pena provare veramente sì e niente ragazzi promosso quindi voti questo Plus e niente ci vediamo alla prossima